Sfiorata la tragedia al terminal bus di Sala Quansilina. Ieri sera, quando erano da poco passate le 20.30, un bus di linea ha iniziato la sua corsa dal parcheggio del terminal bus, finendo in piena strada statale 19, bloccandola completamente. Da una prima ricostruzione sembra che al bus abbiano ceduto i freni, e senza autista, così come si può vedere dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza, si sia precipitato verso il piazzale del distributore di benzina antistante, A rallentare la folle corsa ci ha pensato una Fiat Panda, andata distrutta perché trascinata dal pesante mezzo per circa 10 metri. Per fortuna nessun'altra auto o pedone si trovava a passare in quel momento sulla traiettoria del bus. Sfortunato invece è stato un piccolo gatto, che in quel momento era fermo sotto la vettura coinvolta, ed è stato investito sul posto ai carabinieri della compagnia di Sala Quansilina per ripristinare il traffico evicolare e indagare sulle cause dell'incidente. Sfortunato invece è stato investito sul posto ai carabinieri della compagnia di Sala Quansilina per ripristinare il traffico evicolare e indagare sulle cause dell'incidente.